Il caso dove vedo il team vincente è quello che vede coinvolti direttamente dei clienti. Lì l'esperienza è sempre stata positiva. In particolare, nel caso di clienti molto sofisticati, il presentarsi come una struttura aiuta tantissimo, in quanto il confronto tra vari membri del team fa nascere delle belle sinergie e quindi delle risposte puntuali per il cliente. Devo dire che ho visto quasi sempre grandi risultati da questo tipo di approccio. Chiaramente il team è di solito un insieme di colleghi che hanno lavorato e che lavorano insieme. Ci sono delle regole che in maniera specifica si condividono e si conoscono. I risultati sono davvero amplificati da questo tipo di approccio e il cliente non viene data solo una grande attenzione, ma anche in termini di fidelizzazione nel tempo è un grande risultato, anche per l'intermediaio, non solo per i membri del team.